ora sì che la corsa per l'eccellenza si fa serrata la tre giorni di recuperi del 26esimo turno ha prodotto l'atteso terremoto in cima al torneo con la marignanese che non ha saputo andare oltre al pareggio in casa del bacchia terzo in classifica e con la fiericcione che non si è fatta scappare l'occasione per installarsi al primo posto in solitaria a più due sui cugini di san giovanni marignano quanto sembrano ormai lontani i tempi dello scontro diretto del 13 dicembre all'epoca la marignanese comandava le operazioni con sette punti di vantaggio sui riccionesi e dominò anche quella partita senza però riuscire a fare breccia nella porta difesa da barbanti una mancanza di killer instinct che la squadra di mancini rischia di pagare molto cara visto che la fiericcione ha disputato un girone di ritorno ai limiti della perfezione ed ora si è ripresa lo scettro adesso mancano cinque partite aspettiamoci di tutto anche perché all'ultima giornata ci sarà proprio fiericcione marignanese 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 marignanese